presentato martedì 11 settembre 2012 presso la sala consigliare del comune il programma di orviato con gusto in una conferenza stampa coordinata dal giornalista guido barlozzetti e alla presenza delle autorità comunali e di tutte le associazioni coinvolte il programma autunnale vedrà come ospite d'onore la città slow francese la bastida armagnac ed il sigaro toscano tante le degustazioni da quella cura delle strade dei vini e dell'olio dell'umbria fino al classico a spasso con gusto per le vie di orvieto previsti alcuni convegni sulla celiachia e nefropatia ed uno spettacolo dal titolo il precario e il professore il 6 ottobre al palazzo del gusto cibo ma anche musica il 2 ottobre infatti il duo scolese mangalavite si seguirà presso il ristorante san francesco imperdibili la serie di incontri pensieri da mangiare di guido barlozzetti che tenterà di collegare il pensiero al gusto durante i giorni svolgimento della manifestazione sarà possibile visitare il mercatino delle città slow pa sa pa 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 pa